Bisogna fare attenzione a chi ti aiuta, a chi ti vuol tirare fuori dalla merda. Non è sempre detto che lo faccia con buona intenzione. Questo accade e per farvi capire questo vi racconterò una storia. Un piccolo uccelletto stava nel nido, stava nel suo nido, e muovendosi fece un movimento azzardato, cadde dal nido. Però sotto il nido c'era una grossa merda di vacca che a tutti il colpo e lui non si fece niente, si sporcò solo di merda. Di lì vicino però passava un gatto che vide l'uccelletto nella merda. Allora cosa fece? Lo tirò fuori dalla merda, lo pulì un po' e se lo mangiò. Quindi la morale qual è? Finire nella merda non è sempre la cosa peggiore. E chi ti tira fuori dalla merda non lo fa con le migliori intenzioni, spesso. Metti un like e con l'abbonamento base segui tutti i miei seminari. Ciao a tutti.